Noi andiamo alla tutica, facciamo la sala sorte dello Stato, come sta a vieno? Mirenlo, mirenlo, alli sta il rey poderoso! Vada la cruz Nazareno, vada si puoi! Dices que vas a salvar a otros, salvate a ti mismo, si es que puoi! Si tu eres hijo de dios, bájate de la cruz, pa' que te crean a ti! Si tu eres hijo de dios, bájate de la cruz, pa' que te crean a ti! Salvo a otros y asi mismo no se puede salvar! Si tu eres hijo de dios, bájate de la cruz, pa' que te crean a ti! Si tu eres hijo de dios, salvate y salvate a nosotros tambien! Lo tienes hijo de dios! E' la esplame dios, castigo! Nuestra operazione, estamos subito dios, castigo! Lo que abbiamo fatto! Gesù che questo proprio non è r locato a parte di venire quando arrivi a digerci e in verdad te dico che oggi stai Sunday in il peraice tu che ti destruisci il tetto di Jerusalim e lo dimenticci in tre dias salve a te stesso salvai a te stesso come down from the cross of Zaria so that when we see it we will believe in you he believes he is the son of God well let God come and free him from his torment he said I am the son of God oh my God oh my God why have you forsaken me Eloi Eloi Dama Sabatán que ha dicho está llamando Eloi let him be let's see the larger come to take him from the cross estás perdido Nazareno nadie te salvará tengo sed tengo sed oh my God 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 que está Grazie a tutti.